E in questa serata di Sere in Festa in Tour finalmente abbiamo ospite lui, Felice Piazza, ciao Felice! Ciao ragazzi, tutto bene? Noi bene, e tu come è passato l'estate? Benissimo, alla grande! I tuoi video sono sempre molto richiesti a Sere in Festa! E questo mi fa davvero piacere, grazie mille di cuore! Allora noi ti auguriamo una buonissima stagione autunno-inverno e potresti tornare qui alla festa della polenta perché sei comodo eh! Eh sì, comodissimo, poi ho mangiato della buona polenta e allora siamo a posto eh! E allora in bocca al lupo e vienici presto a trovare il studio, mi raccomando eh! Certo, crepi! Ciao da Sere in Festa in Festa in Festa, da Ficasio è tutto!